Music Beats 1 aprile 2019 Jerry Halliwell risponde alle dichiarazioni di Mel B negando tutto Passato qualche giorno di silenzio dalle bollenti dichiarazioni di Mel B che raccontava di aver fatto sesso con lei, Jerry Halliwell ha risposto con un comunicato stampa al mail online Nella sua replica, Jerry si dice delusa e ferita dalle parole della collega, che tra l'altro arrivano nel giorno in cui New Kay si festeggia la festa della mamma, e nega categoricamente che il fatto sia accaduto davvero L'ex Ginger Spice, che nel frattempo si è sposata e ha avuto anche due bambini, afferma di essere molto preoccupata per le ripercussioni che le dichiarazioni di Mel B potrebbero avere sui suoi figli, Blue Bell, 12 anni, e Monty, 2 anni Nonostante Jerry abbia smentito con tanta fermezza, però, alcune fonti assicurano che effettivamente qualcosa tra le due sarebbe accaduto E che, addirittura, non si sarebbe trattato soltanto di una notte Credits Photo, Instagram